E state comunque preparando delle norme che accompagnano questa sua intesa? Ci sono dei punti come il gioco naturale e altre questioni? Guardi, ovviamente, voglio dire, quello che noi abbiamo presentato è stato un accordo tra due governi e l'accordo tra due governi ha bisogno di una messa a terra di vario genere dal trattato internazionale piuttosto che sono tutte norme che noi definiamo, che confronteremo con il Parlamento. Vedo molto nervosismo attorno a questa materia, francamente non lo comprendo. Mi pare un accordo molto innovativo, molto intelligente, che viene guardato con interesse anche da altre nazioni. Chiaramente bisogna scendere poi nello specifico dei dettagli di mille questioni che vanno affrontate per la natura stessa dell'accordo, però a me pare che la garanzia che noi offriamo con una giurisdizione che rimane italiana pur in territorio extra-UE è una cosa che da una parte offre tutte le garanzie del caso, ma dall'altra consente anche strumenti innovativi per affrontare una pressione migratoria che è oggettivamente complessa oggi per l'Italia e sulla quale sono contenta di sapere che c'è qualcuno che vuole dare una mano e voglio anche dire che mi dispiace che qualcuno che cerca di dare una mano all'Italia venga da alcuni italiani trattato come un paria, perché evidentemente qualcuno non ritiene che sia di sinistra dare una mano all'Italia e accogliere i migranti. Mi pareva diverso in passato il punto di vista, ma voglio ringraziare l'Albania e voglio ringraziare il primo ministro Rama perché noi abbiamo cominciato già da mesi questa estate quando tutti parlavano di con quale trachetto fossi andata in Albania e erano fortunatamente distratti da altro, noi parlavamo di come provare a risolvere dei problemi e ci siamo trovati a lavorare insieme molto bene, quindi credo che vadano ringraziati e credo che, come dicevo anche nella conferenza stampa che abbiamo fatto prima se l'accordo funziona bene, se riusciamo a farlo funzionare bene secondo me può diventare anche un modello per altre nazioni che potrebbero scegliere di operare alla stessa maniera. Lei ha incontrato la comunità nazionale italiana, volevamo capire che realtà ha trovato e che potenzialità intavete.